Chi controlla il passato, controlla il futuro. Chi controlla il presente, controlla il passato. Abbiamo appreso il modo in cui i vostri esperti manager, designati in posizioni chiave, motivano la squadra, citando il celebre discorso di Benito Mussolini all'indomani del delitto Andreotti quando rivendicò la svolta dittatoriale. Poi vi ricordate nel 2026 c'è stato qui a Bologna l'attentato a Matteotti? Diceva Albert Einstein che un pesce non sa nulla dell'acqua in cui nuota. Vorrei qui ricollegarmi al ringraziamento per il presidente Mattarella perché una delle cose che più mi ha dolorato nei giorni scorsi è stato quando c'è stato un attacco alla memoria di un suo congiunto sui social, adesso non ricordo esattamente, e su questo veramente è stata una cosa che mi è dispiaciuta. Signor Presidente del Consiglio, si chiamava Pier Santi, si chiamava Pier Santi. Oltre alla Costituzione regaliamoli e facciamogli studiare la storia. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato.